26 agosto 2019 Splendida giornata di mare Con un mare calmo che sembrava una lastra di olio Acqua pulita, fresca, trasparente Praticamente quasi zero meduse Sembrava di stare davvero in piscina A nuotare da costa a costa all'interno della baia Un posto così meraviglioso Lo trovate o qui lungo il litorale diciamo labronico Oppure andate in Sardegna Oppure in Corsica Un saluto, ciao Sardegna 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 Grazie a tutti.